M.D.S.P.A. è una società che ho fondato nel 1994 qui a Caserta, è una società che si è sviluppata in maniera molto veloce e rapida e abbiamo raggiunto dopo pochi anni centinaia di punti di vendita e nel proseguio del nostro lavoro nel 2013 abbiamo acquisito il cento per cento della L.D. di Lombardini. Con questa fusione è nato un gruppo molto importante che si sviluppa su tutto il territorio nazionale, ora non c'è più una regione dove noi non siamo presenti e riusciamo a fatturare oltre 2 miliardi e mezzo nel 2018 e il nostro impegno è quello di portare il marchio della buona spesa su tutto il territorio nazionale. Il deposito di Griginiano di Aversa è il principale con i suoi 64 mila metri quadri di superficie e coperte. Un gioiello logistico tecnologicamente avanzato costruito all'insegna della sostenibilità grazie a un impianto fotovoltaico di 9.720 pannelli solari. Lo sviluppo sostenibile è uno dei principali obiettivi di M.D. Un esempio è l'adozione di cartelli dotati di batteri a litio senza emissioni che ci permette di operare con la massima efficienza nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri magazzini frigoriferi avevamo la necessità di efficientare i processi di movimentazione e still si è rivelata la scelta vincente. Grazie alla possibilità di veloci e intense ricariche è possibile sfruttare le brevi pause di lavoro per aumentare l'autonomia del carrello. Tutto ciò ci consente di evitare il cambio batteria aumentando ulteriormente le efficienze delle nostre attività di magazzino. Tutto ciò ci consente di evitare l'autonomia del carrello.